Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha fatto tappa questa mattina al Cosmo. Prof Di Maio, accompagnato dal capogruppo dei 5 Stelle al Comune di Bologna Massimo Bughani, ha visitato gli stand assieme al presidente di Bologna, Fiera Giampiero Calzolari, concedendosi anche alle foto e i selfie con i suoi sostenitori. Sono qui per sostenere una delle eccellenze italiane e per abbracciare il popolo delle partite IVA, ha detto Di Maio. La mia presenza qui è prima di tutto per sostenere una delle eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come CosmoProf, ma anche per stare vicino al popolo delle partite IVA, al popolo dei coloro che sono piccoli imprenditori italiani, ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte, per quello che riescono a fare con le loro conoscenze e soprattutto perché hanno la capacità sempre di aggiornarsi. Questo è un grande momento anche di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e quanto deve essere rispettata nel mondo questa nazione perché è un punto di riferimento per tanti settori anche nel caso in cui siamo oggi. In questi giorni siamo impegnati su un importante dialogo con tutte le forze politiche per assicurare alle Camere dei Presidenti all'altezza di questo ruolo, ha detto ancora Di Maio. Ma voglio dire anche chiaramente che quelle che saranno le intese sulle presidenze delle Camere non riguardano assolutamente le intese sul futuro governo del Paese. Quello che ci interessa è dare persone di garanzia alla Presidenza delle due Camere, dei due rami del Parlamento ma soprattutto abolire i vitalizi perché la composizione degli uffici di Presidenza, di Camere e Senato con il loro Presidente, i Vicepresidenti, i Questori e i Segretari sarà importante per abolire un privilegio odioso come quello dei vitalizi che sicuramente è uno di quei temi che ci ha restituito il voto del 4 marzo dove il Movimento 5 Stelle ha raggiunto il 32,5% ma sono sicuro che già in questi giorni tanti altri italiani si stiano avvicinando a noi e ci vogliano dare fiducia sui grandi temi da affrontare che aspettiamo da 30 anni e che è arrivato il momento di fare.